Ciao a tutti e bentornati su Crash History. Oggi torniamo con un video alla lavagna e vi racconto una campagna che ha un impatto enorme sulla storia italiana, anzi potremmo dire che è la campagna militare che insieme all'impresa dei Mille ha fatto l'unità d'Italia, cioè la campagna che sfocia nella battaglia di Sorferino in piena seconda guerra di indipendenza. In realtà questa battaglia ha un'importanza vitale non soltanto nella storia italiana ma in generale nella storia europea. Rappresenta infatti secondo molti storici militari uno dei passi fondamentali che segnano il passaggio dalle tattiche di battaglia delle guerre napoleoniche a quelle che poi condurranno alla prima guerra mondiale e sarà proprio a questo conflitto della seconda guerra d'indipendenza, a questa campagna militare che si ispireranno per esempio i combattenti della guerra civile americana che scoppierà da lì a un anno praticamente dal momento in cui avviene la battaglia di Sorferino e che appunto avranno questa guerra in mente come principale guerra europea recente da cui ispirarsi. Inoltre la battaglia purtroppo fu anche estremamente cruenta, si contano alla fine 26.000 caduti tra morti e feriti e quindi è stata anche poi la battaglia che ha ispirato l'istituzione della Croce Rossa internazionale e quindi una battaglia che in qualche modo viene sempre ricordata a livello europeo proprio perché le sue atrocità poi portano alla nascita di questo corpo che tanto fa ancora oggi per cercare di alleviare le sofferenze dei conflitti. Siccome la campagna che sto per raccontarvi è un po' lunga ho deciso di dividerla in due parti. In questo video seguiremo il primo corso di azione, cercheremo di capire quali erano i piani di campagna dell'una e dell'altra fazione, vedremo l'inizio della campagna militare fino alla battaglia di Montebello che è il primo grande scontro della campagna e poi invece nel secondo video seguiremo tutto il corso delle azioni che porterà fino alla battaglia decisiva di Solferino. Diciamo così che potremmo dire che questo video rappresenta, questa della campagna di Solferino rappresenta la prima serie che provo a portare qui su Crash History, una mini serie costituita solo di due puntate su una campagna che ha molto da dire ma che è ancora abbastanza piccola e si può comprimere in pochi video. Spero davvero che vorrete supportare questa piccola serie in modo tale da darmi anche il vostro ok magari per farne altre e farne anche più complesse. Per quanto riguarda le vicende che precipitano l'Italia nella campagna del 1859 in realtà c'è poco da dire perché per noi italiani sono vicende abbastanza familiari che si studiano anche a scuola. Volendo andare proprio molto veloci e molto rassuntivi possiamo dire che questa campagna militare costituisce il frutto più alto delle trame di Camillo Benzo Conte di Cavour del primo ministro del Regno di Sardegna che riesce a unire il Piemonte in un'alleanza con la Francia guidata in quel momento da Napoleone III il nipote del grande Napoleone I e che appunto grazie a questa alleanza riesce sostanzialmente a trovarsi in una posizione di forza per fare la guerra contro il nemico storico del Regno di Sardegna che il nemico che ha sempre impedito l'unificazione italiana ovvero l'impero austriaco che da solo ovviamente era molto più forte del Regno di Sardegna ma che invece non era più forte dei sardi alleati con i francesi. Si fa quindi questa alleanza Cavour preme fa tutto quello che deve fare alla fine riesce a trascinare l'Austria che un po' ingenuamente dichiara guerra al Regno di Sardegna per cui sarà appunto si apre il conflitto e i piemontesi possono iniziare questa guerra con al proprio fianco le truppe francesi di Napoleone III è qua quindi che parte da qui che parte la nostra campagna e ovviamente come al solito per sapere e capire in cosa consiste la campagna possiamo andare a guardare la nostra lavagna eccola qua la lavagna che ho preparato per voi questa volta una volta tanto niente nomi esotici e difficili da pronunciare siamo in un paesaggio in un panorama che conosciamo benissimo ho messo in nero i nomi delle città e delle fortezze in rosso ci sono i fiumi i corsi d'acqua mentre invece questi che vedete qui in nero con delle sbarrette sono dei binari dei binari ferroviari con un po' di fantasia perché in questa campagna giocheranno un ruolo non trascurabile come avete già capito ovviamente lo scenario di battaglia è il nord Italia ed è in particolare la zona di confine tra il Piemonte e la Lombardia abbiamo ai margini della nostra zona di campagna da un lato Torino e da dove in qualche modo partirà la nostra storia e poi si estende da questa parte qui il Piemonte fino a entrare nella Lombardia potremmo dire che approssimativamente il confine è presso il fiume Ticino qui c'è la Lombardia con Milano e andando più avanti il campo di battaglia che segnerà lo scontro decisivo della campagna è questo di Solferino che si trova praticamente nella altezza del lago di Garda un po' più a nord di Mantua quindi in piena Lombardia uno scenario in cui io ci ho tenuto a mettere in rosso tutti i fiumi perché come vedete è un teatro di campagna che è fortemente condizionato dalla presenza di corsi d'acqua c'è il Po che è il fiume principale tutto questo tratto qui che delimita proprio la zona in cui si svolge la campagna la parte sud del teatro di campagna è delimitata proprio dal Po da questo fiume così fondamentale per noi italiani e poi ci sono tutti gli affluenti che dalle Alpi e dagli Appennini scendono penso più dalle Alpi scendono verso il Po quindi dalla Doria a Baltea se sia Ticino a Daoglio fino al Mincio e quindi nel momento in cui come vedremo nella campagna bisogna avanzare da oriente a occidente vedremo che sarà decisivo il fatto che ogni tot chilometri che si fanno c'è un fiume da attraversare un'operazione che a quei tempi è ancora difficile con i fiumi che ancora costituiscono ma in parte lo sono anche oggi delle vere e proprie barriere difensive dietro le quali ci si può trincerare e si può organizzare una difesa benissimo capito quindi il teatro di operazioni come al solito cerchiamo di metterci il cappello da generale austriaco generale francese piemontese e cerchiamo di capire questi cosa vogliono fare perché combattono e qual è il loro obiettivo ormai è un'abitudine in questa serie di video tra l'altro vi ricordo come sempre che questo video fa parte di una playlist in cui sto analizzando alla lavagna tutte le battaglie e le campagne militari più importanti della storia per cui se vi siete persi dei pezzi andatele a recuperare guardando la playlist bene come sapete la guerra è nata sostanzialmente perché il piemonte vuole annettere il lombardo veneto che è una zona d'italia che in quel momento è a disposizione è sotto il controllo degli austriaci gli austriaci sentitesi minacciare hanno dichiarato guerra e quindi in teoria sono loro che hanno l'iniziativa un elemento fondamentale sta nel fatto che questa campagna è divisa sostanzialmente in due parti in quanto nel momento in cui gli austriaci dichiarano guerra al piemonte la Francia non è presente che poi interviene in quanto alleato dei piemontesi non è presente con proprie forze sul territorio italiano per cui la prima parte della campagna è uno scontro uno a uno austriaci contro piemontesi i piemontesi se la devono guardare da soli e questo in realtà dice molto di come vengono condotte le cose infatti nonostante siano i piemontesi che vogliono conquistare dei territori austriaci vogliono conquistare milano vogliono arrivare fino in veneto nei sogni più speranzosi in realtà i piemontesi partono ad affrontare questa campagna militare sulla difensiva come vedremo non molti degli attori in gioco hanno molto bene in mente che cosa vogliono dalla vita da questa campagna e cosa vogliono fare ma invece i piemontesi partono con le idee abbastanza chiare finché non arrivano i francesi sono in svantaggio gli austriaci hanno il doppio delle forze dei piemontesi da soli non c'è speranza che possano vincere questa guerra di conseguenza i piemontesi si giocano la guerra almeno la prima parte sulla difensiva come ormai ho raccontato più volte sanno che saranno invasi e quando subisci un'invasione te la giochi con le variabili tempo e spazio quindi arretri, arretri il più possibile concedi spazio, metti spazio tra te e l'avversario e sfrutti le possibilità che il territorio ti offre per difenderti cosa ti offre il Piemonte per difenderti? ti offre i fiumi dietro i quali ti puoi schierare ti offre le risaie del Vercellese che puoi allagare se i russi come abbiamo visto nell'ultimo video possono fare la terra bruciata i piemontesi possono allagare le risaie del Vercellese e costringere gli austriaci che avanzano in un pantano fondamentalmente i piemontesi quindi si partono a giocare questa campagna sulla difensiva a tendere e resistere senza farsi annientare finché non arrivano le truppe francesi di Napoleone III il loro piano è tutto qui se già andiamo invece a guardare le cose dal punto di vista francese ci accorgiamo che le idee non sono altrettanto chiare e questi sono degli elementi decisivi per la campagna infatti Napoleone III ha sicuramente chiaro in mente come vuole arrivare cioè vuole arrivare in Piemonte nel più rapido tempo possibile e lo vuole fare con due strade la prima è la strada che porta le sue truppe a imbarcarsi nei porti di Tolone e Marsiglia per poi arrivare a sbarcare a Genova da Genova c'è una bellissima ferrovia che porta fino ad Alessandria questa ferrovia qui ve l'ho anche scritto verso Genova spero si legga e risale da Genova e arriva fino a Alessandria Alessandria è la grande fortezza che hanno i piemontesi nel loro territorio è il centro delle difese piemontesi ed è il punto dal quale dovrà partire poi anche la campagna dei francesi quindi una parte delle truppe francesi arriveranno da qui l'altra parte invece arriverà direttamente in treno dalla Francia passando per la Val di Susa e arrivando fino a Torino è un po' il collegamento che adesso si vuole fare con la TAB o con l'alta velocità quindi direttamente con la ferrovia si arriverà appunto a Torino e Napoleone ha questa priorità portare il più in fretta possibile attraverso queste due strade le proprie truppe in Piemonte prima che i piemontesi possano essere travolti una volta arrivato in Piemonte a Torino, ad Alessandria e avere le sue truppe lì Napoleone III non ha praticamente un piano di campagna se infatti suo zio Napoleone I era uno che pianificava le campagne militari al dettaglio ricordatevi che quando si dice infatti che Napoleone improvvisava Napoleone improvvisava le battaglie non le campagne militari Napoleone III invece è uno che è un opportunista è uno che è molto bravo a leggere le situazioni nel momento in cui si svolgono e a trarne il meglio e a rivolgerle al proprio vantaggio e quindi Napoleone III basa tutto su questa propria qualità punta ad arrivare in Piemonte e poi in base alla situazione che si troverà davanti sostanzialmente di volta in volta deciderà la mossa che gli sarà più conveniente andiamo a vedere invece com'è la situazione in campo austriaco e cosa vogliono fare gli amici austriaci al capo delle truppe austriache almeno nella prima fase della campagna c'è Giulai Giulai non è un generale molto abile è anche consapevole di queste sue mancanze e non è soprattutto una persona particolarmente decisa per cui rimane nel corso di tutta la campagna combattuto da due tendenze ovvero quello che lui vorrebbe fare e quello che invece gli viene chiesto di fare infatti Giulai una cosa vorrebbe fare vorrebbe combattersi questa guerra sulla difensiva vorrebbe da dire è due qua vogliono tutti difendere comunque vorrebbe combattersi la guerra sulla difensiva e puntare sulla grande sicurezza che hanno gli austriaci in questa zona d'Italia le famose fortezze del quadrilatero quattro fortezze che sono messe in modo tale da formare un quadrato e che costituiscono i punti cardinali di un sistema di fortificazione davvero impenetrabile io qui sulla cartina ho le due fortezze vi ho ammesso le due fortezze più ad occidente peschiera che ha un affaccio sul lago di Carda e Mantua altrettanto inespugnabile e centrale che invece è affacciata sul Mincio queste due fortezze costituiscono l'inizio di una zona da qua in poi che per gli austriaci è una sicurezza sulla quale basarsi per cui Giuliai vorrebbe semplicemente rintanarsi qua rinunciando questo vuol dire rinunciare a Milano abbandonare tutta questa parte della Lombardia Milano Brescia tutto quello che si trova a occidente del Mincio vorrebbe rintanarsi qua e aspettare rinforzi il bello è che però da Vienna questa cosa non gli viene non gli viene concessa non guardano questa cosa i consiglieri militari dell'imperatore Francesco Giuseppe non sono molto felici di questo piano d'azione loro invece vorrebbero fare un'altra cosa che è quella che in realtà poi sarebbe anche la più saggia e la più azzeccata cioè dicono da che all'inizio noi dobbiamo affrontare i piemontesi che sono più deboli di noi l'idea dovrebbe essere affrontare questa campagna militare con una decisione e una forza appunto napoleonica potremmo dire attaccare con coraggio i piemontesi invadere il Piemonte attaccare i piemontesi arrivare a sbaragliare il più debole dei nemici in modo tale che quando arrivano i francesi si possano affrontare solo i francesi anche perché i francesi come vi dicevo arrivano da due zone diverse abbiamo quelli che arrivano da qui dalla Val di Susa e quelli che arrivano da sud da Genova quindi in teoria se gli austriaci fossero così bravi da sconvincere i piemontesi a trovarsi già qui quando i francesi arrivano potrebbero fare quello che amava tanto fare Napoleone cioè mettersi in mezzo alle due metà dell'esercito francese e batterne prima una e poi un'altra perché le due metà singolarmente sono più deboli dell'esercito austriaco mi è tutto messo insieme e quindi potrebbero ributtare sostanzialmente i francesi a casa loro ancora prima che possano convergere unirsi e iniziare la campagna questo è quello che viene chiesto da Vienna a Giulai fare un'azione molto forte di penetrazione in Piemonte e arrivare a trovarsi già qui quando i francesi arriveranno il problema è che quindi Giulai stretto tra queste due tendenze la sua a ritirarsi e quella che gli viene da Vienna di attaccare fa una cosa farà tutta una serie di manovre molto molto strana e adesso lo vedremo ma per gli storici è un vero e proprio grattacapo ogni volta cercare di capire il perché delle scelte di Giulai Giulai finirà per condurre una campagna disastrosa in cui alternerà momenti in cui difende a momenti in cui attacca e anche per me è difficile dirvi qual è il suo piano d'azione è difficile dirvi che cosa vuole fare Giulai perché non si capisce perché non l'ha in mente neanche lui vorrebbe avanzare ma senza farsi troppo male con prudenza insomma state già capendo che soltanto nel momento in cui andiamo ad analizzare gli obiettivi di ognuno degli eserciti c'è la ricetta del disastro e di quello che poi sarà l'esito della campagna militare ok questi sono gli schieramenti con il quale parte la campagna questi che vedete indicati in cui i corpi di armata perché in questa epoca gli eserciti sono divisi in corpi di armata indicati con il numero romano sono truppe austriache invece le pedine rosse semplici sono i piemontesi la campagna parte il 29 aprile 1859 come vedete le divisioni piemontesi sono già tutte ritirate dietro il Po il Piemonte punta sostanzialmente a difendersi dietro una linea fluviale laus di austriaci invece che sono sempre quelli che hanno dichiarato guerra e che hanno sempre diciamo a capo giulai che oscilla tra difendere e attaccare partono combiendo questo movimento qua attraversando il Ticino e quindi incominciando a distribuire dei propri corpi di armata in questa zona qui del Piemonte tra il Tricino e la Sesia e il Po proprio in quest'area qui e la marcia che fanno gli austriaci è lentissima piove piove tantissimo i fiumi esondano i piemontesi cercano di fare di tutto per sabotare le strade per sabotare l'avanzata insomma giulai avanza molto lentamente sta già perdendo tempo prezioso perché intanto i francesi stanno arrivando ma in ogni caso quando finalmente le sue truppe si schierano come vi ho mostrato arrivano abbastanza vicino alla linea del Po giulai riprende a fare cose strane cioè in un primo momento prova a puntare verso la città di Valenza Valenza è uno dei cittadini delle cittadine dove c'è un comodo ponte per attraversare il Po e attraversato quel Po si può puntare molto facilmente su Torino per cui in un primo momento lancia il quinto corpo all'attacco su Valenza ma poi questo attacco si ferma poi fa un'altra cosa che sarebbe intelligente prende l'ottavo corpo che era qua dietro al Ticino e lo manda giù a sud del Po l'idea è intelligente vi dico perché qui ci sono c'è sempre la ferrovia attraverso la quale i francesi da Genova arrivano ad arrivare a Alessandria quindi l'idea sarebbe che se io prendo questo corpo d'armata ve lo mostro bene e lo porto ad attaccare questa ferrovia e nel controllo sbarro la strada i francesi ma anche qui l'idea è buona ma l'esecuzione è pessima questo ottavo corpo scende 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 avanza ma una volta che è arrivato abbastanza vicino nella zona di Voghera torna indietro non si sa bene perché controordine giulai ha un'altra idea vuole fare un'altra cosa vuole provare ad attaccare Torino dall'altro lato della zona di campagna dell'area di campagna da Vercelli qua i piemontesi come vedete hanno poche difese le truppe sono tutte sotto quindi ordina ha le proprie forze di andare a Vercelli e di attraversare qui la Sesia il problema è che nel momento in cui fa queste cose e incomincia questo attacco che quindi poi da Vercelli dovrebbe portare ad arrivare a Torino a prendere la capitale tra l'altro non si sa per far cosa perché lo scopo dovrebbe essere annientare l'esercito piemontese e non catturare Torino ma comunque mentre lui fa queste avanti e indietro incominciano ad arrivare le notizie dei primi contingenti francesi che si avvicinano ad Alessandria insomma Giulai ha perso troppo tempo ha perso la sua occasione di annientare i piemontesi prima che arrivassero i francesi a questo punto siamo all'incirca il 10 maggio dal 29 aprile che è partita la campagna non si è ancora registrato nessun fatto d'armi particolarmente importante Giulai si spaventa di avere i francesi nella zona d'Alessandria ritira l'attacco il risultato è che sostanzialmente gli austriaci hanno marciato avanti e indietro per il Piemonte per due settimane all'incirca sotto la pioggia e sotto l'acqua si sono stancati e non hanno fondamentalmente ottenuto niente su una cosa però Giulai aveva ragione i francesi stavano realmente arrivando da Genova arrivano ad Alessandria i primi corpi francesi ve li rappresento con l'indicazione dei corpi d'armata in nero primo corpo secondo corpo e guardia perché Napoleone terzo alla guardia come lo zio arrivano ad Alessandria mentre invece altri due corpi d'armata eccoli qua il quarto e il terzo arrivano a Torino con la ferrovia insomma l'esercito francese sta arrivando è un esercito francese che in teoria è ancora diviso per cui se gli austriaci avessero sconvitti i piemontesi a quest'ora potevano affrontare due forze divise tra di loro ma in realtà ormai tant'è è andata così ed è andata male già per Giulai la campagna per lui già si sta compromettendo questo punto Giulai ha una grande paura da un punto di vista strategico militare ha paura di avere il fianco che dà il Piemonte quindi avere questo lato a sud dello suo schieramento esposto ad un attacco dei francesi che arrivi da qui per cui si vuole togliere il dubbio se ci siano o non ci siano i francesi sotto il Po che fa fa una ricognizione in forze non voglio imitare troppo Barbero che ci ha raccontato queste cose queste cose ma fondamentalmente prende un grosso contingente e questo grosso contingente corrisponde al quinto corpo d'armata un corpo d'armata solo tanti uomini prende il corpo quindi corpo d'armata e lo manda a sud del Po lo manda verso Vopera per capire ci sono o non ci sono i francesi e i francesi ci sono in particolare c'è una divisione del primo corpo d'armata francese che è a Montebello di conseguenza il quinto corpo austriaco arriva a Montebello e si imbatte nel primo corpo d'armata francese le due unità vengono a contatto per il semplice fatto che gli austriaci stavano avanzando alla ricerca del nemico inizia la battaglia la battaglia di Montebello che è il primo scondro armato di rilievo della guerra la battaglia di Montebello mostra proprio i differenti approcci alla guerra dello schieramento austriaco e dello schieramento francese gli austriaci infatti avanzano disperdendo molto le proprie forze per cui in realtà a Montebello arrivano pochi uomini in teoria il quinto corpo d'armata austriaco tutto insieme conterebbe il triplo delle forze che i francesi e i piemontesi hanno veramente a Montebello il problema è che queste forze arrivano sul campo di battaglia alla spicciolata un po' alla volta per cui i francesi si trovano ad avere la superiorità locale il risultato è un combattimento ferocissimo i francesi devono andare casa per casa a stanare gli austriaci che si sono arroccati a Montebello ma alla fine hanno la meglio proprio perché i francesi hanno a Montebello un'intera divisione ben collocata e sistemata mentre invece gli austriaci fanno arrivare i propri uomini alla spicciolata molti arriveranno a scontro ormai già finito quando non potranno fare altro che coprire la ritirata il risultato è che quindi il quinto corpo arretra Montebello è una battaglia sanguinosissima gli austriaci perdono 1300 uomini e a Giulai serve perdere 1300 uomini per capire che ci sono i francesi a sud del Po sostanzialmente la battaglia per gli austriaci serve semplicemente a quello Giulai infatti non si fa un grande cruccio di aver perso lo scontro di Montebello anzi tutto sommato è soddisfatto ha avuto la certezza di quella informazione ci sono i francesi lì e quindi ha finalmente un buon motivo per arretare ok il primo video di questa serie sulla campagna di Solferino di questa miniserie si ferma qui spero che il video vi abbia interessato spero soprattutto che non vediate l'ora di vedere il secondo che arriverà settimana prossima e per ora vi saluto e alla prossima ciao